C'è stato il congresso mondiale di flebologia a Boston a settembre che ha visto la delegazione italiana tra le più attive nel panorama internazionale. Noi, quando dico noi, significa il gruppo con cui io collaboro all'Università della Sapienza, abbiamo portato sette lavori, tutti di un livello molto alto e la nostra bella figura a Boston è stata fatta anche grazie alla presenza del professor Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara con cui abbiamo messo su un lavoro scientifico estremamente importante. E dopo questa esperienza in America è stato il congresso di Padova in cui mi ha visto candidato per presidente alla Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale il coronamento di un percorso che è iniziato tanti anni fa e che finalmente ha visto appunto questo coronamento con la nomina presidente. La presidenza praticamente coprirà il triennio 2014-2016 e oramai stanno in pendola una serie di progetti di ricerca della nostra società soprattutto con l'Università di Chieti per quanto riguarda la biodinamica e con il professor Saggini che è una delle autorità più importanti a livello nazionale della fisiatria, con l'Università di Roma e adesso vedremo anche di chiudere un accordo, un protocollo di intesa con l'Università di Foggia. Grazie a tutti.